Sta diventando estremamente di moda. Io ho la convinzione che nel breve periodo assisteremo a un'operazione di greenwashing di portata epocale. Tutti si reinventano sostenibili, tutti praticano la parola sostenibile. Un applauso contro il greenwashing, ci sta sempre bene. L'ultima che ho visto è che un'azienda che sta facendo del danno, si fa avanto di essere sostenibile perché mette i pannelli solari. Se tu metti i pannelli solari e poi inquini in maniera intensiva o tratti male i tuoi dipendenti, questo è tutt'altro che sostenibile.